Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Per motivi personali e per lo più perché ne ho rilette un po' e non mi va ancora di metterle. Poi quando mi andrò a divertire di darvele ve le darò in tal caso. Però ci sono, ci sono. Poi quando è, un pochino più in là magari. Che cazzo di altro? Oggi dovevo stare nella casa nuova. Ah, non bisogna fargli scappare questi. Ragazzi dovremmo fare una cosa per andare in solitaria. Ma che abbiamo già ripreso, regate. Giorno 1. E io mi ho abbandonato, raga. Oh no! Eeeh! Dove vuoi entrare? Mi hai buttato fuori, pezzo di merda! Scusa ma adesso è finita così? No, ma è al contrario che ha pochino. Ma iniziano sempre dalla parte che abbraccano. Ma basta! Dici è scrittato? Ma scrittate, ma guanciale è morto che c'aveva il cecchino. Sì sì, guanciale è riuscito a morire col cecchino, vabbè. Ma come ha fatto? Aveva fatto un passo. Mi sa che stava camminando ed è caduto di sotto. Sì, sì. Oddio. Veramente, mamma mia. Andiamo, amici. Pessimo. I Dio del gioco! Bravo! Sì, me lo manda da una parte, ma dall'arta la metta sotto al set. Pessimo, porco Dio. Pessimo, porco Dio. Pessimo, porco Dio. Fabio, scattami sulla fascia. Porco Dio. È bello, è bello, è bello. L'ho finurato. Mangialo. No. Vai, maestro. Tira, tira. Bravo, Fabio! Giambo? Non la passo, non rischia. Vai! Ti vanno quelle scarpe, cioè se tu hai 43, quelle te vanno. Allora, te le do a te. Riccardo, grazie per i set. Tanto te lo dà pure il regalo di compleanno. Va bene. Riccardo, grazie per i set. Senti, ma a te ti è cambiata la voce della femmina di Stream Elements? Non ci ho fatto caso. Ma io sono alert bassissimi, non ci ho fatto caso. Allora, allora, viaggio alla scoperta del Tempio dei Ratti. L'hai visto, Marzò? Spiegaci una vaschetta di plastica e sopra alla stessa vaschetta poi aderiva delle etichette con l'indicazione dell'offerta speciale. Speciale. Vediamo queste che ho salsicce qua. Allora, queste le avete confezionate voi? Non mi verrebbe voglia di continuare a comprare sul bancone dove vedo comunque i carabinieri. La etichetta originale di questa salsiccia dove sta? Manco queste. La macellazione. Non volete fare quella più alta? Allora, dove stiamo? Come possiamo fare il reset? Usare le cose in game? No, no, no. Non lo facciamo. No, vabbè. Ma il più fico che va indietro. Ovviamente non vale usare i checkpoint. No, no. Ma in modalità normale. L'ha già fatto Fabio. Facciamo in modalità normale. 15 minuti ragazzi, chi arriva più, chi tocca più, ma forse, sai che forse in realtà, Madonna mi sta laggando tutto UBS, l'ho appena aperto il gioco. Ah, è vero, si può fare il reset game. Ma perché dobbiamo resettare ma sti cazzi? Basta, porco due, sono 18 mila cose, so. No, ma andati, va bene così. Infatti va bene così, no? Francesco, va bene così? Che dici? Sì, io vorrei cantare. Secondo me va bene così, Marzo. Che dici? Maia Bianca Oro. Mi fai un Maia Bianca Oro che è urlato, Grimball? Al volo? Sì. Maia Bianca Oro, sono 20 due jeans. È lui! Cioè, è letteralmente lui! Non paragonarmi, ora mi giù così. No, Anzio Porco, si è voluto. You are disconnected from your channel. E ragazzi, e allora, ve lo prendo nel cu... Eh, no, niente, ha levato la gamma. Madonna, stai in tre secondi proprio. Madonna, ma è luce quella da te? Sì, no, ovviamente sto parlando con un pazzo, scadendo dentro la mia camera dove sono da solo, eh. Non tocco a sta te se quella è luce. Figa! Veramente una merda. Grazie che siamo già a buon punto. Ma poi spingono tutti fortissimo, tutto il tempo. Devo anche trovare un posto per lasciare giù le scarpe ad un certo punto. Guarda tutti che guardano la telecamera, mi urta! Allora di topi, ancora non ne ho visti. Sì, è sicuro. Sì. Ok. Ho un zaino dago collector americana. È un zaino dago. Riguardo al discorso di prima. Io non avrei fatto diversamente. Me lo porterò nella tomba se devo. Sì. Me lo porterò in ordine con un paio di fascette. Va benissimo. Non bloccare. Bene, adesso devo scorreggiare. Ed, come va? Tutto a posto, capo. No, Mike. Mike, aspetta. Oh, è un incubo. No! Ta-da! Il mio cazzo. Io cana... Sapete, quando si vendono auto, bisogna saper leggere i segnali. e il corpo di Nigel manda tutti i segnali giusti verso di me. Quest'uomo è in estasi davanti alla magnifica... Allora, vi faccio vedere direttamente le prove. Un secondo, proprio. Vi metto un attimino lo schermo. Eccolo qui. Instagram male della giusta. E te stai là tutto? Che cazzo significa? Perché Instagram male della giusta? Fatemi cucinare. Il VOD di ieri. Volato per le N-Word. Dovevo vedere la golfatina. Pezzo di merda, ora mi dici chi ha vinto la golfatina. Altrimenti mi troverò costretto... Cazzo! Porco Dio! Apriamo il video alle della giusta dove facciamo abbraccio di ferro. Spalla fuori, ragazzi. Purtroppo non sono riuscito a sistemare la cosa. Questa settimana non stream. Vi aggiorno qui su Instagram. Per due settimane non stream più. Matteo, grazie per l'altri 500 bit. Pazzo, smu, pilatano, grazie per il Prime. Benvenuti. No, ragazzi. No, ragazzi. Devo rifare i quattro muri. Ma è una fiesta. Ma è una fiesta. Ma è una fiesta. Cioè, dite che è scriptata come roba. Pazzo, bastardo, coglione. Ma con la mano, ragazzi, l'ho fatto io, dai. Con il coreografo. Ragazzi, non mi sorprete il cellulare. Ma come super, pezzo di merda. Era un perfeccio. Ok, a me non puoi sapere. Quello ho imparato. Ma perché? Ma, regà, molto ignorante. Ma... Cioè, Clouse e Tony e Ribéry facevano i buchi, Arbayer. Cioè, io mi ricordo che Tony, quando è andato Arbayer, tipo, stava un po' mezzo un bo' un declino. O me ne ricordo malissimo. Sì. Ma davvero? Ah, Scarpador ha... Cioè, Scarpadoro Tony l'ha vinta al bar. Non l'ha vinta la Fiorentina. Ma mi ricordo che fece tipo 30 gol alla Fiorentina. Ehi! Ken, un ragazzo di... Ma no! Dimmi che ci sta la clip dove gli sputa in faccia. Quella è il miglior clip di sempre. Ken, Ken, Ken. Ken. Scusa. Ehi. Sei uno scozzese. Oh, cavolo. Grassona! Non scrivere mentre guidi! Non rischiare! Ehi! Sì, dobbiamo percorrerla tutta. Tutta? Brutti bastardi! Poi Johnny e Stu mi hanno offeso. Io pensavo... Ehi, io non sono né grasso né calvo. Io non sono né grasso.